Ragazzi, io sono scioccato per quello che ho visto ieri. Ero a Piazza Pretoria con mia moglie e mio figlio quando ad un tratto è uscito questo tizio vestito da clown. Io sono sconcertato dall'idiozia delle persone che emula queste mode americane. Adesso vedrete delle immagini veramente pesanti e paurose. Ci avevate creduto? Ragazzi, secondo me è una cazzata enorme. Queste segnalazioni, secondo me, sono finte. Ho fatto questo video appunto per chiarire questa situazione, secondo me. E detto questo, mi scuso se ho usato la sua immagine per questo video goliardico e non me ne voglia. Mi scusi tanto, signor clown.